Giella con la manico Sì Tira la mano qui, tonto Sì, va tranquilla, non mi cade Siamo andata oggi? Bene, bene Contenta? Sì Stai di ritornarci anche domani? Sì Perché? Che bene dalla stanchessa Quanto giusto ha fatto oggi? Eh? Quanto giusto ha fatto oggi? Sì Sì Tanta fila? Tanta Alcune hanno aperto tardi Quindi E' giusto dove si è divertita di più? Le pentole Sì che almeno era più fresco Se stava meglio Spero di farci un altro giretto? Eh? Spero di farci un altro giretto? Sì perché è troppo caldo Come dall'altra parte Oh Almeno lì si sta pelli freschi E' venuta da sola o con qualcuno? Sono venuta con le mie dolce vita Romano Giovanni Due smakey one Ho fatto il bravo? Eh? Un po' nei capricci come i bambini Però no vabbè Sopportabile Vai Quindi lo porterà anche domani? Se fai il bravo sì Voglio dire qualcosa Prima che finisca il giro A tutti quelli che vedranno il video Sì a tutti Un bel giretto di meraviglia Equipaggiarsi con scarpe comode Maglie traspiranti Perché si suda La giornata è lunga Quindi mi raccomando Equipaggiatevi bene Acqua Zainetto Ciabattine Tutto comodo Eh? Mi raccomando Italia? Uno